Questa settimana tende a diminuire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e si fissa intorno a 64 casi per 100.000 abitanti. Tende a diminuire anche l'indice di trasmissibilità dell'infezione, ovvero sia l'RT, che rimane al di sotto dell'unità, intorno a 0,92. In leggero aumento invece il tasso di occupazione sia dei posti di area medica che dei posti di terapia intensiva, rispettivamente intorno al 7,4% e al 5,9%, però abbiamo alcune regioni che sono al limite della soglia critica. Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti come la variante Delta, che è altamente trasmissibile, è bene continuare con forza la campagna di vaccinazione e mantenere dei comportamenti individuali che siano ispirati alla prudenza.